Musica Squisite signore e gentili signori in visione all'ascolto L'operatore di ripresa Luca Giulianelli e Umberto Maruzzi vi augurano il buon pomeriggio da un abbacchiato Gianni Siboni di Piacenza dove tra alcuni istanti vi racconteremo il settimo incontro per i bianconeri di questo campionato di serie D girone D Vediamo se saprà ripetersi oggi Angelotti il tiro la traversa di Angelotti poi Tozzi che spara addosso Mammetti Calcio d'angolo viene battuto basso Jonathan Vita in anticipo sul primo palo Fulcini Palla lunga è incredibile il gol che si è mangiato Matteassi Fulcini va a calciare e Sannino avversari poi ritorna su di lui Pozzi ma ancora Bugliani mette in mezzo il colpo di testa è the goal è the goal è the goal Massese 1 Propriacenza 0 Marino Taddeucci al 46esimo del primo tempo di Taddeucci adesso un lancio lungo per Taddeucci che fa il tiro da pochi passi distanza da Iacchimoschi Angelotti alla meglio converge verso il centro va il tiro la palla rimbalza interno destro tocca Iacchimoschi la palla è per Bartolomei poi ancora un calcio d'angolo numero 3 Pozzi che si avventura in un dribbling poi va il tiro la respinta di Pugno di Sannino poi Nicolini Nicolini che serve per Vignotti Vignotti le sue finte cross in mezzo tocca di testa Cecciarini rovesciata il giocatore sul quale la squadra bianconera ripone grandissime attenzioni e c'è una disattenzione della difesa bianconera Nicolini va a pareggiare mette in avanti per Matteassi poi Nicolini quindi piccolo Casamalli lascia palla a Santi che supera Vignali Santi entra in area Santi che va il tiro Sannino devia in angolo a Piacenza l'atletico Betto Laponte pro Piacenza pareggia per 1-1 con la Massese a chi che 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 i che che che